Buongiorno a tutti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di A casa con la redazione. Mi chiamo Cassandra, lavoro da 24 anni in Sergio Bonelli, sono la vostra centralinista per cui quando chiamate in redazione trovate solitamente me o Giulia. E cos'altro faccio in Bonelli? Faccio la segretaria di redazione, quindi seguo lo staff meraviglioso di Dragonero e mi occupo fondamentalmente di catalogare sceneggiature e disegni che arrivano, controllare che gli albi vengano consegnati alla stampa, vengano letterati, controllare che Barbieri segua per filo e per segno tutto quanto, che la programmazione venga rispettata, che non si sia troppo in ritardo, insomma ci proviamo, Barbieri è bravissimo quindi non ha bisogno fondamentalmente di me. Cos'altro faccio? Faccio la prima o seconda lettura di Nathan Never del mensile, quindi penna rossa. Post-it e si va a caccia di refusi. Mi occupo di dare l'ok alla distribuzione quando arrivano le prime copie stampate, mi occupo di controllo sequenza, insomma un lungo elenco di lavori ma se andate a vedere il video di Giulia lei ve lo spiega molto meglio di me. E poi cosa faccio? È 24 anni che seguo voi lettori, quindi vi rispondo al telefono, cerco di risolvere tutti i vostri problemi, i vostri dubbi, sono capitate le telefonate semplici di... quando esce quest'album edicola a... ma quel personaggio che c'era in quel famoso fumetto degli anni 50? Insomma, si cerca di rispondervi a tutti, si cerca di risolvervi tutti i vostri dubbi e i vostri problemi. E cosa mi manca di più in questo momento? Mi mancate proprio voi lettori, perché siete quello... siete il nostro mondo, siete tutto quello che ci dà la spinta a lavorare e a fare sempre di più e sempre meglio. Quindi sì, è un momento difficile per tutti, nei miei mille lavori per portare avanti un fumetto e portarlo fino all'edicola cerco sempre di essere attenta alle vostre richieste, alle vostre esigenze. Qualunque cosa voi mi diciate al telefono, io cerco di riportarla a chi di dovere e quindi, cari lettori, siete proprio voi che mi mancate e spero di risentirvi presto. Un abbraccio!